E' una condizionata per cavalli di quattro Anne, uno Eden Jet, due FBGF, tre Emery Mattere, quattro Estasi D20, cinque Estalba Pax, favori per FBGF, in chiusura 1,88 la sua quota, lì che partono con Estasi D20 che dal centro schieramento va subito al comando e attaccata da Estalba Pax, le due si staccano con Estalba Pax che proprio a paletto di 200 metri passa al comando, lancio in quattordice uno, avanza subito FBGF, Eden Jet terza alla corda davanti ad Emily Mattere, le cavalle affrontano così la prima curva con Estalba leader su Estasi D20, FBGF che si presenta subito aggressiva, 400 metri iniziali in 28 e mezzo, con FBGF che riceve strada da Estalba Pax, il galoppo nelle regole di Eden Jet e Emily Mattere, e i 600 metri in 43 e 3, FBGF, Estalba Pax ed Estasi D20, le tre reditive di questa corsa di apertura, transitano a paletto degli 800 metri, in 58 e mezzo, da 1,13 e 1. la favorita in testa, la contro favorita in seconda posizione, la terza forza del campo in terza, e le tre affrontano così l'imbocco della curva finale, è un chilometro in 1,13 e 8, con FBGF, Estalba Pax ed Estasi D20 incolonnate con FBGF che adesso accelera, prende un po' di vantaggio a Estalba, essa si prova a presentarsi proprio sulla lieva di Vaccaro, cavalle che fanno ingresso e addirittura arrivo con FBGF che allunga ulteriormente, lascia di stacco le altre due a lottare per la seconda moneta, FBGF, passarella fino ai 200 finali dove deve solo controllare, perché le avversarie sono a una ventina di metri, è un totale controllo, addirittura Michele Lazzara prende in mano la sua lieva e si impone ad Estalba Pax ed Estasi D20, 1,58 sul mio cronometro, 44,2, la chiusa per gli utili 100 metri, FBGF colore del signor Giancarlo Passarlo per il tren di Claudio Lazzara e la guida di Michele Lazzara, in chiusura 2,20 la sua quota, al secondo posto il 5 di Estalba Pax, a terzo il 4, 3,5,4 l'arrivo della prima da Siracusa. Soggetti più appoggiati, partenza con Fan Fatal dal centro schieramento che è la più veloce e in poche battute scende alla corda ma rientra First Lady Man all'interno e allora Fan Fatal è costretta a fermare e ripiegare in seconda posizione davanti a Farfallina. A largo c'è subito Fashion Glory, lancio in 14. La seconda pariglia è formata da Fariots che ha all'interno invece First Lady VL, a chiudere Futura Gams. Cavalli affrontano la prima curva, First Lady Man al comando su Fan Fatal e 400 metri in 29,5. In terza posizione c'è Farfallina a largo Fashion Glory, seguito da numero 5 di Fariots. 600 metri in 43,6, First Lady, Fan Fatal, Farfallina, Fariots. Questi i primi con Fariots che viene deciso proprio al paletto di 800 metri in terza ruota a metà gara il 58,2 da 1,12,7 con Fariots che attacca Fashion Glory che lo anticipa. I due vanno su First Lady Man che prova a difendersi, dietro Fan Fatal, Futura Gams che prova l'avanzata. Chilometro in 1,16 con Fashion Glory che ha scavalcato Fan Fatal in crisi, Fariots che si porta al suo attacco, poi Fan Fatal che si è liberata, Futura Gams centropista, Ancora Freeway Run che prova a inserirsi, è un testa a testa tra Fashion Glory e Fariots. Fariots attacca duramente Fashion Glory, è un testa a testa tra i due, Fashion all'interno, Fariots a largo, poi il galoppo dietro di Fan Fatal quando era terza, Futura Gams che prova l'avanzata. Fariots attacca con decisione Fashion Glory e nei pressi del palo ne ha la meglio, sullo stesso, Futura Gams precede Freeway Run e Fenice 3B. 1,59 e mezzo, 1,14 e 6, il successo di Fariots che conferma di essere un gran bel cavallo, i colori sono quelli della società all'avvento Team Minopoli, Gasparo Verde Junior al training, Alessio Antonino Pecoraro Junior da catch, Insurchia al figlio di Mascon Massive, al secondo termina Fashion Glory, a terzo Futura Gams per un arrivo che recita, 5 al primo posto, 7 al secondo, 9 al terzo. Vinci d'ora l'ultima uscita proprio qui a Siracusa, Cavalli pronti a partire. Si parte di galoppo De Mostene, piglia subito l'iniziativa Drago Capar, con vicina Dama Ciregal che chiude in corda Contebella, largo avanza subito Charlie Parker. 12,8 di lancio, con Drago Capar, superato dalla compagna Dama Ciregal, intensa sempre Charlie Parker, di dentro invece il numero 5 di Domi Laser, 400 metri in 28,1, con Dama Ciregal, Drago Capar, allargo Charlie Parker nelle prime posizioni, poi Contebella, via via tutti gli atti, 600 metri in 42,3, e si va veloci in questa gara. A chiudere d'appello del Monica Matto, siamo sulla retta opposta arrivo con Charlie Parker che attacca duramente Dama Ciregal, 57,8 a metà gara, passa Charlie Parker. Dama Ciregal resta seconda, poi il galoppo improvviso di Charlie Parker, è così tutto da rifare, in testa ai due di scuderia Dama Ciregal e Drago Capar, in terza ruota Demos e Circeo, che fino adesso è stato spettatore molto interessato della bagarre iniziale, poi vicina ancora Domi Laser che si trascina d'Arco De Gredis del Monica Matto, siamo addirittura d'arrivo con Dama Ciregal messa sotto pressione da Drago Capar, ma soprattutto da Demos del Circeo, che passa sul burro ai 250 finali, Demos del Circeo ha preso la meglio sui duellanti Dama e Drago, prova a trovare da correre Contebella, poi ancora all'argo di tutti del Monica Matto, ma Demos del Circeo ha messo ancora una volta la sua firma e si impone a Del Monica Matto, Dama Ciregal e Drago Capar, 1.57.5, 1.13.4, il successo di Demos del Circeo, che è veramente inarrestabile in questo momento di grande condizione, i colori quelli del signor Antonio Leonetti, al training Gaspare Lo Verde Junior, che raddoppia dopo il successo di Pocanzi con Fariots, Alessio dichiara da catch in sella all'assauro di Oro Puro Bar. Demos di me al segno, quindi al secondo posto la sorpresa di Del Monica Matto, che precede... Vito Cusimano, sei fiero, Gaspar e Lo Verde, Fermezza Gallo e Fiero, si contendono il ruolo di favoriti, 100 metri allo sacco e la macchia, si ritrae Frank del Ronco, si ritrae Frisco B, gli altri a lottare per il comando, si parte, Frank del Ronco è il più veloce, allargo Fiero, poi a seguire Fermezza Gallo e Falcor Font, forza ai tempi Fiero e sulla prima curva passa al comando, lancio in 14.2, Fiero, Frank, Falcor Font, Frisco B, Fermezza Gallo e quindi Feliz Dia, queste le posizioni, con i cavalli che percorrono l'ultimo tratto della prima curva, primi 400 metri in 30, un filo scarso, Fiero leader, davanti al compagno di allenamento Frank del Ronco, in terza posizione Falcor Font a precedere Frisco B, 600 metri se ne vanno in rallentamento, in 46.8, nel frattempo Fermezza Gallo si rifà sotto, in quinta posizione, a precedere Feliz Dia, rallenta ulteriormente, Gaspar la redda al comando, a metà gara si arriva in 1.2, secondo è sempre Frank, a precedere Falcor Font, quindi Frisco B, Fermezza Gallo, Feliz Dia, una fila indiana, che arriva così alla penultima curva, un chilometro di Fiero, in 1.18.1, resta secondo, incollato Frank del Ronco, un paio di ringhezze Falcor Font, muove dalla quarta posizione, Frisco B, a largo, nel frattempo Fiero, fa un paletto in 14.5, si arriva in 1.32.6, Falcor Font, scusate, Frank del Ronco, previene la risalita di Frisco B, terzo alla corda, resta sempre Falcor Font, poi indietro gli altri, che porono la risalita, Fermezza Gallo e Feliz Dia, 1.48 scarsi, ancora un paletto in 15.2, con Fiero che adesso allunga, Frank del Ronco, stessa sempre sulle tracce, Frisco a largo, di dentro Falcor Font, un miglio in 2.3, Fiero è sempre leader, adesso c'è l'avanzata di Feliz Dia, dall'estremo retroguardia, che scavalca Frisco B, muove anche Fermezza Gallo, dal fondo del gruppo, Fiero comunque allunga, Frank del Ronco resta lì, Feliz Dia prova l'aggancio, poi più indietro Fermezza Gallo, gli altri che restano un po' sulle gambe, con Fiero che, deve solo controllare, gli attacchi dei compagni di allenamento, all'interno Frank e a largo Feliz, gli altri in lotta per le altre posizioni, con Frisco B e Fermezza Gallo alle prese, Fiero in totale controllo, ripete il successo palermitano, e si impone facile facile, a Frank del Ronco, Feliz Dia, e Frisco B, sul mio chilometro 2.48, un filo scasso, siamo nell'ordine l'1.163, sui 2.200 metri, successo di Fiero, colore del signor Domenico Termini, Gaspare Lo Verde, al training e alla guida, dal figlio di Love You, al secondo posto, Frank del Ronco, al terzo Feliz Dia, un plane della scuderia Lo Verde, 6.54 e l'arrivo. Bene, quest'oggi premiamo un protagonista del Trotto, grazie alla GLF, rappresentata dal dottor Fulvio Fasano, e quindi Francesco, come di consueta, ci darà la motivazione, del perché, questa volta, per il mese di febbraio, si sceglie di premiare, Gaspare Lo Verde Junior. Grazie Sabina, il motivo, è direi semplice, abbiamo fatto un calcolo, delle presenze in corsa, nel mese di febbraio, Gaspare Lo Verde, ha portato a correre, 14 cavalli, tre primi, tre secondi e due terzi, mi sembra che sia un rendimento notevole, e quindi mi è sembrato giusto dare a lui riconoscimento, da parte della GLF, del dottor Fasano, un piccolo pensiero, anche di Sicilia Corsa News, quindi il dottor Fulvio Fasano, può premiare, Gaspare Lo Verde. Sicilia Corsa News, invece, ti omaggia di un, è in vetro, praticamente, è un fermacarte, con il nostro logo, dove c'è scritto il tuo nome, come protagonista, di febbraio, 2024. Ne approfitto, perché gli argomenti sarebbero tanti, Gaspare, una famiglia devota all'Ippica, perché lo zio Biaggio, prematuramente scomparso, i fratelli Giuseppe, Tonino, tuo papà, mani scalchi, Gaspare, che ha preso l'eredità del padre, e tu, che insomma, da piccolo sei nell'ambiente, sei entrato, sei uscito, sei rientrato, ma devo dire che nell'ultimo anno, sei entrato da veramente, facendo rumore, con un gran lavoro, adesso tanti cavalli, alle tue dipendenze, e risultati stanno arrivando, e sono contento, perché ti stiamo premiando, oggi sei venuto con due cavalli, e hai fatto due primi. Grazie Francesco, come hai detto, purtroppo a causa un po', della chiusura di Palermo, mi ero un po' allontanato all'ambiente, siamo ritornati, ho stretto un po' di collaborazioni, con diverse scuderie, che mi stanno dando fiducia, proprietari con cavalli, un po' più qualitativi, rispetto al passato, e i risultati si vedono, quando dei cavalli di qualità, riesce a lavorare meglio, poi il tracciato di Siracusa, è sempre un tracciato più selettivo, rispetto magari a Palermo, che ci sono delle corse più affollate, e quindi riesci a poter programmare, dei cavalli nel migliore dei modi. Diciamo che in questo momento, ci sono tanti buoni soggetti, alle tue dipendenze, dai magari dacci qualche dritta per il futuro, qualche cavallo che magari hai preso da poco, perché so che il mercato è sempre attivo, darci un consiglio da seguire, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento. Ma guarda, io Fario Assogia ha vinto, e si dimostra un cavallo molto interessante, un cavallo che ancora è acerba, soltanto delle 4-5 corse in carriera, quasi sempre a premio. Lo faccio un cavallo discreto, come anche Furo Regal, Demos del Circeo, in queste categorie sta dimostrando di essere un cavallo forte, Artez che è sempre produttivo. Diciamo che non mi posso lamentare del ciclo di cavalli che c'è in scuderia, perché ritengono che siano quasi tutti i soggetti che fanno bene, però molta fiducia per il futuro, per Furo Regal e Fariots, e io faccio due bulletri interessanti. Ringraziamo Gaspar e gli rinnoviamo i complimenti e gli auguriamo di proseguire, perché sta facendo davvero bene. Con questi due primi ho fatto un rapido calcolo, sei a un primo, D'Alessio dichiara che è il leader degli allenatori in questo momento a Siracusa, quindi andiamo così, che sta andando bene, questo è un grosso piacere per noi, che amiamo Olimpica, che siamo legati soprattutto al nome della famiglia Loverde. Corsa comunque abbastanza aperta, con i cavalli pronti al lancio, e con Cannibal F.I. che è il più veloce, in poche battute scende la corda davanti a Bristol Holm, a largo avanza subito a Nubis, ancora più a largo, Zoom Rock parte come una scheggia, e al paletto dei 200 metri, è la leader, lancio il 14.1. Zoom Rock, Cannibal F.I., a largo Carlo F.I., con all'interno a Nubis, poi Classic Star, quindi Azzaleaggetti in terza ruota. Si affronta la prima curva, 400 metri iniziali, in 29.4. Posizioni per il momento che non cambiano, con Carlo F.I., che adesso muove con più decisione, il galoppo di Azzaleaggetti e di Anubis, il 600 metri percorsi in 44.3, Zoom Rock leader, Calloferme ai suoi fianchi, di dentro Bristol Holm, poi si fa vedere Azzaleaggetti, all'interno anche Classic Star F.K.S., si arriva a metà gara in 1.1, con Calloferme che mette sotto pressione, Zoom Rock, in terza ruota ci prova ancora Zalea, di dentro sempre Bristol Holm, quindi chilometro in 1.15.8, Daigal Font adesso muove con più decisione, a largo di tutti, si fa vedere anche il numero 12 di Bawi, a Classic Star F.K.S., a largo di tutti, allunga Zoom Rock, mette in difficoltà Carlo Ferm, all'inseguimento di Zoom, c'è Cannibal F.K.S., che in poche battute muove dalla sua scia e scatta, si muove anche Splendor Joyoso, di dentro ci prova Bristol Holm, poi tutti gli altri berra gruppati, con Classic Star a largo di tutti, e ancora davanti Cannibal F.K.S., lo scatto invece di D-Slide, a largo di tutti, e Classic Star di Sly, di C-HSM, a grossa quota, su Cannibal F.I. e Classic Star. Arrivo davvero palpitante, in quattro sotto una linea, con D-Slide, che è sul palo, riesce a prendere la meglio, Classic Star probabilmente è seconda, davanti a numero quattro di Cannibal F.I. e all'uno di Splendor Joyoso. Due minuti, un filo abbondante, siamo nell'ordine dell'uno, 15-1, e comunque, il successo è andato a D-Slide, di C-HSM, colore del signor Giovanni Pezzino, training di Carlo Giordano, Giuseppe Pezzino alla guida. Favori per Elsa, Ernest Fonte, eclettico cab, gli ultimi tre del campo partenti. Macchina, che accelera, e via per questa sesta corsa, la più veloce è Namorada Maker, che prende l'iniziativa, davanti a Enjoy Run, in terza posizione Hermes FC, è rimasto a largo, Emiro del Qatar, che punta subito in avanti, lancio in 14-5, mentre riviene forte, eclettico cab, dall'estremo retroquadro, il galoppo di Enjoy Run alla corda, con eclettico che forza i tempi, sulla prima cura, ma si getta anche lui di galoppo, è Namorada e sempre davanti, Emiro del Qatar l'attacca, poi riviene bene da dietro, Hermes FC, seguito da Elfim Magic, il primo quarto in 34, si va sulla retta posta all'arrivo, posizioni che non cambiano, è Namorada, Emiro del Qatar davanti, in terza posizione, Hermes FC a largo Elfim Magic, 46, i primi 100 metri, si va di riserva, con Namorada, che prova a fermare il più possibile, adesso Ernest Font si porta ai suoi fianchi, 1-2 e mezzo, si va da 1-18, a metà gara, con diversi cavalli, di galoppo, ed Ernest Font, che resta davanti, adesso ad Namorada Maker, sorpasso che viene effettuato, all'imbocco della curva finale, 1-18 scarsi il primo chilometro, adesso si muove bene, Enjoy Font, in terza ruota, ci prova anche Elsa, di dentro c'è sempre Hermes FC, Ernest è passato, è Namorada seconda, gli altri che si schierano al ventaio, Hermes invece va per via in Tennessee, fa ingresso e indirittura arrivo, con Ernest Font leader, è Namorada senza spazio, Enjoy Font, che è in leggero calo, attaccato da Elsa, al centro della pista, più indietro Hermes FC, Ernest Font sembra poter controllare, tutto e tutti, muove dalla sua scena, Amorada Maker, che però poi ritorna sotto, perché Ernest Font non si prende più, Enjoy Font si getta di galoppo, e così lascia il terzo posto a Elsa, davanti ad Hermes FC, Ernest Font adesso dichiara segno, qualcosa meno di 2-4, siamo nell'ordine dell'1-17-3, successo di Ernest Font, colori della Maga Fee, training e guida di Alessio dichiara, al secondo posto il 4 di Namorada Maker, al terzo l'11 di Elsa, quindi ordine d'arrivo, numerico ed ufficioso, della sesta da Siracusa, 10 al primo posto, 4 al secondo, 11 al terzo. Prima fila dalla quale si ritrae Bono Jet, e si parte dall'interno Brent RL, scavalca Dominic Fergi, all'argo Bora di Poggio, che va a chiedere subito strada, a Brent RL, 200 metri iniziali, se ne vanno in 14-7, con Bora che passa su Brenta, in terza posizione resta sempre Dominic Fergi, e già c'è una lunga fila indiana, e Siracchio un momentino Bora di Poggio, i 400 metri iniziali se ne vanno in 30, e si fa il primo passaggio sotto le tribune, con Bora leader, Brenta che la segue da vicino, con un paio di lunghezze Dominic Fergi, precede il treno degli altri, con Truccelli che prova a farsi sotto, quindi ancora Zippo B, e Baltasar SSM, scema un po' il ritmo questo parziale, e così si arriva agli 800 metri in 1, 1 e 4, a largo prova la risalita Chanteclair, seguito da carinissime Zippo B, di dentro l'altra colonna con Dominic Fergi, Truccelli e Bono Jet, primo chilometro di Bora di Poggio in 1 e 18, Chanteclair va a far pariglia con Brent RL, e carinissima va a far pariglia con Dominic Fergi, adesso Chanteclair intensifica il suo attacco su Bora di Poggio, con un parziale in 14,7, Bora è costretta da allungare sotto l'attacco di Chanteclair, da vicino Brent RL li segue, Dominic Fergi è terzo alla corda, con un largo carinissima, poi Zippo B che si muove in terza ruota, 1,48 per i 1,4, 15,3 di frazione, e si va in avanti con Chanteclair e Bora di Poggio, passato Chanteclair, Bora è in calo, si è liberata anche dalla scopa della posizione Brent RL, un miglio in 2,3, nel frattempo Zippo B scavalca tutti, e si pone in terza posizione all'inseguimento dei primi due, con Chanteclair che sembra bene in mano a Francesco Fiori, Brent RL che comunque non si perde danno, cavallo numero 10 squalificato, l'ingresso in dirittura arrivo, con Zippo B che segue da vicino, ma Chanteclair all'ingresso del dirittura arrivo, allunga netto, Chanteclair prende subito una decina di metri agli inseguitori, i capeggiati da Brent RL, Zippo B all'argo per via interna e Baltasar S.S.M., Chanteclair in controllo, ritorna al successo dopo tanto tempo, e lotta solo per la mia piazza, con Zippo B che in fondo prevale su Brent RL, poi Baltasar S.M., Dominic Fergi, 2,47 e mezzo sul mio cronometro, siamo nell'ordine dell'1,16,1, il successo di Chanteclair, Jet, i colori di signor Giovanni Marino, il training e la guida di Francesco Fiore, al secondo posto il 9 di Zippo B, precede il 3 di Brent RL, per ora di arrivo che vede il 2 al primo posto, il 9 al secondo, il 3 al terzo. Il 3 al secondo, il 3 al secondo, il 3 al secondo, il 3 al secondo,